bella raga buongiorno bentornati dal vostro kiwi rieccoci qua oggi come avete letto dal titolo andremo a commentare i peggiori karaoke che alcuni dei peggiori karaoke che ci sono sul web e da premettere da premettere se mi sentiste cantare diciamo che io entrerei di diritto nella top five dei peggiori karaoke che poteste mai ascoltare quindi per il momento eviterò mi limiterò soltanto a commentare a divertirci insieme su questi video che ho trovato nel web e cosa importantissima o ancora non si è iscritto al mio canale perché clicca iscriviti qua sotto poi a fianco c'è una campanellina ci clicchi sopra la campanellina e ovviamente ci metti like al video ovviamente no poi mi raccomando commenta durante il video commenta quello che ti pare basso i commenti o ragazzi e mi raccomando fatemi crescere ci sto mettendo molto impegno e spero possiate apprezzare e piccolo spoiler per i prossimi video ci saranno degli unboxing proprio dedicati a questo canale per della nuova attrezzatura quindi raga io ci sto ce la sto mettendo tutta è mi raccomando fatemi sentire la vostra presenza e iscrivetevi campanellina like al video commentate e condividete iniziamo con questo primo video di video commenti e si chiama il fantozzo indiano i ravi lila attam pagani to come itu thadani e'ngal ullagam e'ngal ullagam ha ha aspetta c'è quando cantava se c'è qualcuno che capisce questa lingua scrivetemi cosa cantava, cosa diceva però è stato bello alla fine che si è girato come che stava la moglie che diceva smettila smettila poi con quel baffetto la canotta, la fantozzo, il fantozzo indiano dai raga andiamo avanti e vediamo il prossimo video commenti e diciamo che questo prossimo video è proprio una voce angelica diciamo è senza denti lancio una piccola challenge in questo preciso momento riuscite ad ascoltare tutto il video senza schippare o mettere in pausa o andare avanti scrivetelo nei commenti se ci siete riusciti io veramente per fare questo video poco poco mi sestavano a uscire le orecchie quindi mi raccomando scrivetelo nei commenti se ci siete riusciti a uscire le orecchie a uscire le orecchie Oh mio nuovo ai LoADero Eu no dico mai Open domenico ai Le lo pregono mai Deve lo pregono mai Le lo pregono mai io faccio più raga me se stavano a spanna le recchie me se stavano raga la voce più angelica del mondo mamma mia raga ma che è non ha detto una singola lettera cioè faceva tutti i versi faceva era una canzone a versi era però peccato senza denti forella forella senza denti andiamo avanti raga questa mi avviso è la canzone migliore più bella che la disney potesse mai fare e tanto lì si rende giustizia con questo karaoke spettacolare si chiama frozzono no 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 to be seen i think of my my son and it look like i'm a queen queen king of bees have a daughter try to che cazzo è che è da rida pure a lui che è da rida lo sa la foto forse lo sa la foto ah no andiamo avanti andiamo don't let them men don't let them see be the good girl you always have to be cantino e non è proprio no niente no fate ahahahah ahahahah ti stavo a stracciare ahahah 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 andiamo avanti questa è l'ultima e questa è proprio in inglese l'inglese non è inglese però canta in inglese questa canzone di Mariah Carey ok ok non 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 ma non 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 un talent show di musica tipo x factor e poi si è andato così o l'hanno piata tutti in giro e dicevo a fai lo scherzo dai uva e voce fantastica voce fantastica vai 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 a fare il provino vai a fare il provino che se non si spiega ma non si spiega l'inglese perfetto proprio l'inglese perfetto ma poi andrò a fare un provino musical idol un provino russi credo sia tipo in russia perché parlavano in russia quella alla fine mi ha chiesto in che lingua stai cantando potevi dire anche in qualsiasi altra lingua ti pareva? puoi inventarti una qualsiasi lingua? io vabbè sta cantando in questa lingua inglese vabbè raga questo video commenti è finito qua mi raccomando scrivete cosa ne pensate nei commenti e mi ricordatevi di seguirmi mettere like mettere la campanellina commentare condividere tutti sti cose insomma mi raccomando ragazzi fatemi sentire la vostra presenza che nel prossimo video ci sarà l'unboxing per la nuova strumentazione che userò qui in questo canale ok ragazzi mi raccomando eh fatemi sentire la vostra presenza show belli ciao 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 ciao